2022, un anno da record, il più caldo, il più secco, il più soleggiato, almeno dal 1967, data in cui il Centro Geofisico per Alpino avviò i suoi rilevamenti. La temperatura media ha toccato 15 gradi, superiore dello 0,5 a quella del record precedente, stabilito nel 2019. A questo si aggiunga l'ottobre più caldo di sempre e una temperatura media estiva degna dei tropici, visti i 36,5 gradi raggiunti e il primato di ben 59 giorni con oltre 30 gradi. Gravi, come ben ricordiamo, gli effetti della siccità. Le piogge sono state la metà del solito, sono caduti in tutto 768 mm d'acqua contro i 971 del 2005, senza contare gli incendi agevolati dal clima. Mesi più secchi, gennaio, febbraio, marzo e naturalmente agosto. Poca neve, anche ad alta quota, con un ulteriore e sempre più allarmante arretramento dei ghiacciai alpini, un dato riflesso nel livello dei laghi con un verbano particolarmente basso in primavera e un lago di Varese al di sotto dello zero idrometrico per ben 70 cm. Questo però non ha evitato la dannosa esondazione vista a giugno a Casalzuigno, né le spaventose grandinate di Saronno, Uboldo e Gerenzano a luglio e malnate ad aprile.